Signori! Un saluto da Montaguto l'ultimo weekend di giugno il primo dell'estate Qua si respira ancora no? Ancora bello fresco Fortunatamente si respira Giù in pianura non si respira Nelle vostre città Nelle vostre città la temperatura di oggi supera i 40 o i 50? A Napoli 31 Affoggio ieri sicuramente i 40 i 40 li abbiamo fattati abbondantemente Quindi facciamo un appello a tutti i cittadini di venire a Montaguto perché se sta c'è frisca Sì, almeno venite a Montaguto che si sta freschi Tanto freschi che noi domani ci andiamo a mare E questa era cattiva pubblicità Esatto, ma il mare sta qua Trovate anche il mare Troviamo il mare Ciao Porteremo pure il mare a Montaguto Ci vuole solo la volontà